A causa degli ombrelli, speriamo che il tempo mantenga, quindi i bambini qui davanti. E con questa liturgia noi entriamo nella settimana santa. Signore sia con voi, sorelle e fratelli carissimi. Questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la benitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della qualsiasi. Vedisci questi rami di origini e concedi a noi due fedeli che accompagniamo e soltanto il Cristo, nostro Re Signore, di giungere con Lui alla Gedusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora tenete alzati i rami, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un libro. Dovete fare un po' di spazio per me, quello perché viene con me il diacolo, un po' più grande. Mentre il coro canta. Mentre il coro canta. E' un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me. E' un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me. Per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me. E' un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me. E' un po' di spazio per me. E' un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me. E' 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 un po' di spazio per me, io passerò in mezzo a voi per benedire i rami di un po' di spazio per me. E' un po' di spazio per me. Pazio per me.